14 minuti dopo la mezzanotte è venuto al mondo, pesa 3 chili e 750 grammi ed è tutta la gioia di papà Francesco e mamma Pamela. Cesare Fava, questo è il suo nome, è il primo nato nelle Marche nel 2012, suo il record di velocità, stabilito nella clinica privata, Villa Igea di Ancona. È una gioia, ma anche se non fosse stata, è una gioia comunque quando ti stimo a menti, è solo contentezza. Come mai il nome Cesare? Cesare perché la mamma è appassionata dell'antica Roma, di Giulio Cesare, questi personaggi qui. Tutto è andato molto bene per la felicità sia sua che della madre. Sì, inizialmente non ero convinto, poi è piaciuto anche a me molto. Un parto spontaneo, quello di mamma Pamela. Le condizioni di Cesare sono ottime, ma il primario Flavio Persichini e l'ostetrica Maria Elena Buschi hanno dovuto sottoporsi agli straordinari. È un elemento di soddisfazione che ci accompagna da diversi anni. Noi siamo abituati a fare il primo nato della città, delle Marche, d'Italia, abbiamo fatto altre volte. Quindi sicuramente è una bella soddisfazione, anche perché poi si accompagna alla nascita di altri tre, quattro, uno è in arrivo. Quindi è stato un capodanno scoppiettante da questo punto di vista. Oltre a quella di Cesare, altre quattro le nascite avvenute nel primo giorno dell'anno. Una alle quattro, la seconda nella città di Ancona. Una alle otte e cinquanta, una mezzogiorno circa e una nel pomeriggio. Niente male per chi rimane a lavorare nell'incertezza che l'ostetricia possa essere chiusa. La regione, con cui vi legge è convenzionata, ha stabilito infatti il limite di 500 parti all'anno per rimanere operativa. Attualmente però nel reparto se ne fanno circa 350. Il futuro quindi è appeso a un filo, quello del piano di riorganizzazione sanitaria che prevede lo spostamento del nuovo presidio pediatrico salesi a Torrette. Ma intanto cinque nuove vite nel primo giorno dell'anno sono quantomeno una gioiosa speranza.